Buonasera e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Classica ma non troppo. La scorsa settimana abbiamo terminato di vedere la geniale Quinta Sinfonia di Ludwig van Beethoven. Da oggi e per un po' di puntate ci occuperemo di un'altra importantissima composizione e anch'essa molto geniale la Sesta Sinfonia, detta anche la pastorale. Incominciamo col dire che mentre Beethoven stava componendo la Quinta Sinfonia, che come abbiamo visto ha avuto una lunghissima gestazione, è stata scritta in moltissimo tempo, con abbozzi che sono stati via via rielaborati, durante la composizione della Quinta Sinfonia Ludwig van Beethoven ha cominciato a scrivere e poi ha anche completato una Sesta Sinfonia che però non potrebbe essere più diversa dalla Quinta. Perché? Perché se nella Quinta Sinfonia si è affrontato il tema del destino che bussa alla porta, l'abbiamo visto in modo molto particolareggiato nelle scorse puntate. E quindi c'è un tono e un clima soprattutto estremamente drammatico e a volte anche cupo. Nella Sesta Sinfonia invece si cambia completamente perché Beethoven vuole descrivere i sentimenti e le emozioni che gli suscitano lo stare in campagna. Infatti Beethoven era solito trascorrere i periodi di vacanza a Illigestad che era una località fuori Vienna di una località di campagna dove appunto trascorreva questi periodi estivi e gli servivano diciamo anche per staccare proprio dall'inquietudine della sua vita quotidiana per immergersi nella bellezza della natura e ritrovare appunto una sua tranquillità. e da tempo Beethoven pensava come trasmettere queste sensazioni in musica e lo farà appunto attraverso la Sesta Sinfonia non a caso soprannominata anche la pastorale. E diciamo le emozioni vengono appunto descritte in questa sinfonia dove è quindi sbagliato parlare di musica descrittiva o perlomeno non è solamente musica descrittiva perché non vengono solamente riportati in musica i paesaggi quindi dal punto di vista visivo ma vuole essere espresse vogliono essere espresse le sensazioni e le emozioni che l'autore provava nello stare in campagna e questo è pienamente riuscito in questa grandissima sinfonia il paesaggio campestre diciamo nel primo movimento il ruscello nel secondo movimento le danze nel terzo l'importantissima scena molto suggestiva del temporale che vedremo nel quarto movimento e il finale molto gioioso del quinto. Quindi abbiamo visto un carattere completamente diverso rispetto alla quinta sinfonia ciò che resta uguale è l'organico con però l'aggiunta dei tromboni a partire dal quarto movimento che serviranno per dare rinforzo nella suggestiva scena del temporale che vedremo nella puntata adesso dedicata. Cosa veramente importante il fatto che ebbe la sua prima esecuzione a Vienna insieme alla quinta sinfonia abbiamo parlato della sera in cui venne eseguita la quinta sinfonia che suscitò grande stupore tant'è che gli spettatori chiesero a Beethoven il motivo del tema del destino ecco la stessa sera di seguito fu anche eseguita questa sesta sinfonia dal carattere opposto che ci fanno appunto capire anche come Beethoven inquieto e che aveva grossi problemi legati al destino e quindi alla sua inquietudine ritrovasse invece nella campagna una sua tranquillità. Per oggi è tutto e vi do appuntamento alla prossima settimana dove cominceremo ad analizzare il primo tempo dal tema famosissimo che ascolterete la prossima volta. Grazie e buona serata. Grazie a tutti.